Teologine e teologine, eccomi qua. Il video di questa sera lo dedico ad una frase evangelica per me molto importante. La frase è Ama il prossimo tuo come te stesso. Però mi serve un parere illuminante. Chi me lo può dare? Il mio maggiordomo, ovvio. Alfred, prego. Dimmi Alfred, ma secondo te che vuol dire la frase evangelica Ama il prossimo tuo come te stesso? Grazie Alfred, sei molto illuminante, come sempre. Puoi andare. Ecco, volevo specificare qualcosa che riguarda questa frase evangelica. In realtà questa frase evangelica è già presente nell'Antico Testamento, nel libro del Levitico mi sembra, tale e quale. Però c'è da specificare una cosa. Il popolo ebreo dell'Antico Testamento, il prossimo in qualche modo si limitava ai correligionari o allo straniero che andava ad abitare in Palestina. Nel cristianesimo invece il prossimo diventerà qualsiasi persona, senza distinzione di religione, sesso, lingua, abitudini sociali. Quindi nell'ebraismo, ripeto, il prossimo è colui che vada ad abitare in Palestina o il coreligionario. Nel cristianesimo il prossimo è la categoria allargata a qualsiasi essere umano. Questo mi sembrava importante sottolinearlo. Questa frase mi ha sempre molto affascinato. Infatti quando la spiego a scuola cerco di farla ricadere anche in termini di morali, non solo religiosi. Secondo me la domanda delle domande è questa. Ma per spiegare bene questa frase, è meglio cominciare da amare il prossimo tuo e poi andare al te stesso? O è più utile cominciare dal come me stesso e poi arrivare al prossimo? La risposta chiaramente mi sembra ovvia. Fondamentalmente è più utile cominciare da quel te stesso per poi arrivare al prossimo. Perché se Gesù solamente avesse detto amo il prossimo tuo, non era una grande novità. L'hanno detto in tanti. Questo concetto l'hanno espresso tanti autori, tanti filosofi. Quel te stesso è stato espresso sicuramente anche prima di Gesù. Però Gesù lo rimarca in qualche modo. Oggi sappiamo benissimo che chi non è in pace con se stesso, chi non sa bene con se stesso, chi non ha raggiunto un certo equilibrio con se stesso, che non vuol dire non avere problemi, attenzione. Quindi chi non è in pace con se stesso, inevitabilmente ha problemi nel rapportarsi con gli altri. Io lo vedo anche a scuola, tutti i giorni. Io frequento ragazzi dagli 11-14 anni. Quando noto un ragazzo in difficoltà di socializzazione, che si chiude un po' in se stesso, e chiaramente lo vedo in difficoltà con gli altri, è perché in quel periodo sta attraversando qualcosa che lo turba, che non lo fa essere sereno. E quindi inevitabilmente non sta bene in mezzo agli altri. Vuole essere un po' lasciato in pace e va rispettato per questo. Il giorno in cui, e io lo noto sempre, avrà più o meno risolto quel suo problema, piccolo o grande che sia, non ha importanza, che lo fa stare male con se stesso, lentamente sboccerà e si aprirà verso gli altri e tornerà ad essere una persona più equilibrata. Quindi, prima cosa fondamentale, star bene con se stessi è la cosa più importante che c'è per avere un rapporto con gli altri il più possibile sereno e equilibrato? Questo lo dicono anche tutti gli psicologi, da che mondo è mondo. E in qualche modo, sia l'Antico Vestamento, che Gesù lo sottolineano a questo aspetto. La domanda successiva è la seguente. Amare se stessi è fondamentale per stare bene con gli altri. Ma che significa amare se stessi? Questa è una domanda che difficilmente ci poniamo, che i ragazzi difficilmente si pongono. Poi io gliela offro a scuola, perché se non capiamo che vuol dire amare se stessi, non sarà facile capire poi i risvolti dei nostri rapporti con gli altri. Amare se stessi, secondo me, ma anche secondo molte correnti psicologiche moderne, significa essenzialmente accettare se stessi. Accettare se stessi è il primo passo per l'equilibrio. Accettare se stessi non vuol dire non voler migliorare, non vuol dire affermare io sono fatto così, punto, prende o lasciare. No? Poi diventerebbe un alibi, una scusa per non migliorare. Vuol dire, l'accettazione di se stessi vuol dire capire che ognuno di noi ha, nella sua personalità, pregi e difetti. Devi accettare i pregi e accettare i difetti. Il pregio va accettato perché ti dà sicurezza, ti dà forza, ti conferma, ti fa andare avanti, ti fa sentire importante. Ma il difetto, i difetti, gli sbagli che commettiamo, sono spesso più importanti dei pregi. Che se una persona pensa di avere solamente pregi, diventa una persona anche così piuttosto presuntuosa, saccente, perfezionista, che non va avanti, è ferma. Chi sa accettare i propri difetti e da loro imparare per migliorare, ecco, questa persona va avanti. L'importante quindi è sapere accettare il proprio difetto, per potersi amare e avere quindi un rapporto con gli altri, ripeto, il più possibile sereno e equilibrato. Come il bambino piccolo. Se il bambino piccolo non cade molte volte mentre cammina, non acquista l'equilibrio, deve cadere, rialzarsi, ricadere, rialzarsi. Più volte cadrà, più saprà acquistare l'equilibrio che poi lo farà camminare bene. È così nella vita morale. Il difetto è fondamentale, può essere un grande alleato, a patto però di non piangerci addosso. Perché spesso, durante l'adolescenza, ma anche nella vita adulta, spesso il difetto noi lo vediamo come un nemico. in realtà non è un nemico, è un alleato che ci fa capire dove abbiamo sbagliato. È da lì come è possibile ricominciare. Quindi, stare bene con se stessi, amare se stessi, prima cosa vuol dire accettarsi, capire i miei valori, i miei pregi, i miei difetti. Quando io a scuola noto un ragazzo in difficoltà, con delle problematiche che non lo fanno apprendere bene, è chiaro che devo in qualche modo fargli notare che ha delle difficoltà. Ma al tempo stesso vi faccio capire che da lì può ripartire, che non deve piangersi troppo addosso, deve rialzarsi. Se uno prende quattro, una verifica, prende tre, o prende un voto insufficiente, deve in qualche modo capire che da lì può ricominciare. E l'insegnante intelligente, che ha a cuore l'educazione, la formazione, l'equilibrio mentale del ragazzo, e non solo la cultura, deve fare in modo che il ragazzo, dal difetto, dallo sbaglio commesso, possa capire come può migliorare. Noi insegnanti siamo molto importanti in questo. E a cui le nostre parole sono fondamentali per incoraggiare o per affossare. Se io correggo un compito di un ragazzo e mi limito solamente a sottolineare gli errori, lo devo fare. Guarda, caro Mario Rossi, vedi? In questa verifica dove hai sbagliato, ti evidenzio gli sbagli. La volta prossima, commettili di meno di sbagli. Ok, perfetto. Ma l'insegnante che ha a cuore l'equilibrio mentale del ragazzo e la sua formazione, deve anche far capire, guarda, è vero, hai sbagliato, ma in questo compito hai fatto alcune cose molto bene e te le evidenzio, come ho evidenziato le cose sbagliate. Ti evidenzio anche ciò che hai fatto bene, non solo penna rossa, ma anche un altro colore, dove ti metto, ok, bravo, queste cose fatte bene, confermale. In questo modo l'alunno tornerà a posto e a se stesso dirà bene, ho sbagliato, ma ho fatto anche bene. Devo accettare ciò che ho fatto bene, lo devo confermare nella prossima verifica. Ciò che ho fatto male mi servirà per migliorarmi. È così che si va avanti, anche in un percorso scolastico equilibrato. Perché a volte gli insegnanti, in buona fede, non lo facciamo apposta, tendiamo istintivamente ad evidenziare più gli sbagli che non i meriti, anche se fossero piccoli i meriti. Non scorderò mai questa mia esperienza personale, l'ho già raccontata al Cerbero, tempo fa. Dopo la terza media, scelsi liceo classico e lo rifarei sempre. Ma i primi mesi del liceo classico, in quel tempo, il primo anno si chiamava quarto ginnasio, per varie motivazioni che non sto qui a spiegarvi, cominciai molto molto male. In ottobre, novembre, voti molto bassi, latino, greco, insufficienze. La mia professoressa di lettere, che era molto brava ad insegnare, ma come educatrice, purtroppo, ora posso dirlo, sono anch'io insegnante, non era veramente il top, la mia professoressa di lettere, cominciò a farmi discorsi, in cui, invece di farmi accettare quel momento sbagliato per incitarmi a non arrendermi, cominciò ad affossarmi, con discorsi tipo, vedi Santoro, sei andando male, i tre, i quattro si sprecano, vedi, il classico non è per te, cambia scuola. Voleva che io non accettassi quel momento brutto, ma che dicesse a me stesso, il classico non è per te, non accettare il tuo sbaglio, tanto non riuscirai mai a porre rimedio, non è vero. Dopo un po' decisi di non ascoltarla più, anche se soffrivo, per assicuro, a 14 anni, un adulto può incidere molto con le parole dette in un certo modo, decisi, non l'ascolto più, la rispetterò, l'ascolterò quando spiega, ma appena comincerà a darmi sfiducia e non vorrà farmi accettare questo momento, che può essere per me uno stimolo a fare meglio, chiuderò le orecchie, farò finta di niente, e così feci, andai avanti, mi impegnai di più, dimostrai a me stesso che potevo farcela, accettai quel momento, quel mio momento negativo, lo accettai come una sfida e fui promosso alla fine, non arrivai a prendere 8, 9, arrivai a delle sufficienze, qualche 7, ma partivo da 3, a 4, quindi capite come è importante accettare nella vita anche questi momenti, e mai, parlo per gli alunni o per chi fa scuola, anche per chi è in università, e mai confondere, confondere un brutto voto con il senso del tuo valore, quel brutto voto è un momento, è un incidente di percorso, non è tutto te stesso, tu non sei quel numero, prendi spunto da quel numero negativo per andare avanti, e ce la farai. Tempo fa usce un libro di un giornalista sportivo, Carlo Nesti, che magari molti conoscono pure, il cui titolo era Il mio psicologo si chiama Gesù, è vero, con questa frase Gesù in qualche modo ha dato anche dei riferimenti psicologici alla fede delle persone. L'autostima è fondamentale per accettarsi in tutto, ma l'autostima non è essere vanitosi, vanesi, non è dire come sono bello, bravo, buono, intelligente, bla bla bla, no, vuol dire io valgo, a prescindere dai miei errori o dalle mie virtù, io valgo in quanto essere umano, e devo convincermi di questo. Arrivederci, al prossimo video, ciao ciao! Grazie.